dal libro dottrina di salvezza volume 3 capitolo 16 i regni di questo mondo i governi degli uomini il primo governo terreno una teocrazia è ovvio che colui che ha creato tutte le cose inclusa questa terra ha ogni diritto di governarla e di regnare su di essa ma per circa 6.000 anni secondo la nostra cronologia salvo poche eccezioni che riguardano una minoranza di persone il figlio di dio che dopo aver compiuto questa grande opera aveva il diritto di regnarvi in realtà non ha regnato fra i popoli della terra al contrario gli uomini si sono allontanati da lui hanno eletto i propri governanti hanno formato i propri governi e hanno emanato le proprie leggi ignorando sia il creatore quale regnante legittimo che i comandamenti che originalmente egli dette ai figlioli dei uomini il primo governo di questa terra fu una teocrazia era un governo in cui dio regnava dando i suoi comandamenti e le sue leggi ai figli dei uomini egli governava per rivelazione in certi casi per mezzo di messaggeri che provenivano direttamente dal suo cospetto in altri parlando di tanto in tanto attraverso i suoi serbi che detenevano il sacerdozio egli li guidava non soltanto per ciò che concerneva le questioni di natura spirituale ma anche per quello che riguardava il loro benessere civile l'intenzione del signore era che questo stato di cose continuasse se l'uomo fosse stato disposto ad ascoltare la sua voce e a camminare secondo i tuoi comandamenti questo mondo avrebbe veduto la pace e la giustizia avrebbe predominato sulla sua faccia quando Adamo fu scacciato dal giardino di Eden egli non fu lasciato senza guida il signore gli mandò dei messaggeri e gli parlò anche con la sua stessa voce benché Adamo fosse stato scacciato dal suo cospetto e non lo potesse vedere tuttavia riceveva comandamenti e rivelazioni per la sua guida gli uomini perdono il governo di Dio se i loro figli e le loro figlie fossero stati obbedienti come Adamo ed Eva allora io dico che la pace e la giustizia che sono il naturale risultato dell'obbedienza avrebbero continuato ad essere ad esistere sulla terra fino ad oggi ma c'erano altre influenze all'opera per 6.000 anni in questo mondo si è sentita l'influenza di Satana si sente anche oggi poiché i figli di Adamo ascoltarono la voce di Lucifero e lo seguirono in terre si formarono governi che non erano sotto la guida della rivelazione né essi ascoltarono i comandamenti del Signore gli uomini si sollevarono ed usurparono il diritto di regnare e di governare essi ignorarono i mandati e i diritti e i privilegi di colui che doveva regnare e governare ed a guisa che gli uomini si disseminavano sulla faccia della terra dimenticarono Dio il risultato di ciò sono state la malvagità le lotte, l'irrequetezza e le contese con tutti i loro mali e così troviamo oggi il mondo esso è ammalato ed è stato ammalato durante la sua storia mortale ma oggi noi viviamo in tempi molto turbolenti il cuore degli uomini viene meno nel cuore degli uomini dominano l'egoismo, l'ingiustizia il desiderio di possedere, di trarre profitto e al tempo stesso la paura che caratterizza il male il potere di Satana nei governi del mondo gli Stati Uniti non sono il regno di Dio né lo è l'Uniterra, la Germania o la Francia prendete tutte le nazioni messe insieme esse non costituiscono il regno di Dio ma sono soltanto governi terreni fatti dall'uomo malgrado il padre abbia suscitato uomini retti e li abbia diretti nella composizione del governo e della Costituzione degli Stati Uniti d'America tuttavia esso non è il governo di Dio come tutti gli altri è un governo fatto dall'uomo e noi non avremmo il governo di Dio finché Cristo non verrà a regnare e quando verrà egli sarà il re del re egli occuperà il suo legittimo posto Satana ha il controllo adesso quale che sia la direzione in cui guardate là egli è al comando anche nel nostro stesso paese egli guida i governi per quel che il Signore glielo permette questa è la ragione per cui in tutta la terra ci sono così tante lotte, agitazioni e confusioni una è la mente principale che governa le nazioni non è il Presidente degli Stati Uniti non è Hitler, non è Mussolini non è il re o il governo di Inghilterra o di qualsiasi altro paese è Satana stesso le agitazioni del mondo sono generate da Satana cosa dice il Signore nella prima sezione di Dottrina delle Anze l'ora non è ancora arrivata questo veniva detto cent'anni fa ma è prossima quando la pace sarà tolta dalla terra e il diavolo avrà ogni potere sul suo proprio regno bene, sicuramente Satana ha il dominio sulla sua gente perché suo è il potere della confusione della lotta, dell'amarezza e della divisione di classe suo è il potere della delusione e non della pace e della giustizia dove si può trovare la giustizia del mondo in Europa, in Asia, negli Stati Uniti io vi dico che non avrete pace negli Stati Uniti o in altra parte del mondo finché il Principe della pace non verrà a portarla i uomini hanno preso in mano l'oro, la legge hanno sfidato la legge e l'ordine quando in un posto si mette fine agli sciopoli essi iniziano in un altro perché? perché Satana ha il potere sui suoi domini e anche fra i legislatori e fra gli uomini che hanno giurato di far rispettare la Costituzione noi troviamo quelli che incoraggiano questa illegalità e si prestano a favorirla tale condizione è una origine dal Regno di Dio questi mali aumenteranno finché le profezie non saranno adempiute ed alla fine la terra sarà purificata e Cristo verrà come Re dei Re mancanza di cristianesimo fra i popoli è una vergogna che si debbono spendere miliardi in armamenti appesantendo i fardelli sulle spalle della gente quando si dovrebbe vivere in pace e senza pericolo di essere attaccati gli Stati Uniti sono ritenuti o sono stati ritenuti nel passato una nazione cristiana così è per le nazioni europee tuttavia noi troviamo che le condizioni più diffuse sono le seguenti timore nel cuore della gente nazione che si prepara contro nazione continue e contro versi negli anni passati abbiamo veduto il dolore causato dai disaccordi, dall'egoismo, dalla copiligia e dalla determinazione delle nazioni di riuscire ingiustamente nei loro desideri illegittimi se esse fossero veramente nazioni cristiane se adorassero veramente il Signore Gesù Cristo se credessero nelle sue dottrine se le mettessero in pratica queste condizioni non sarebbero così imbalse l'anarchia e le afflizioni future malgrado tutti gli ammonimenti fattici dal Signore stiamo correndo follemente e ostinatamente verso la distruzione preparandoci per l'inferno non crediate che il Signore non abbia in animo quello che dice perché quello che è stato predetto dagli antichi profeti e che è stato ripetuto nelle rivelazioni degli ultimi giorni si adempirà al mezzo di Isaia il Signore disse la terra è in lutto è esposfata e a causa della malvigità dei uomini gli abitanti della terra sono consumati e poca è la gente che ne è rimasta questa predizione fu ripetuta dal profeta Malachia come si legge nell'ultimo capitolo del suo libro quindi io dico che sono preoccupato sono preoccupato per queste nazioni sono preoccupato per le nazioni a causa della malvagità delle persone io scorgo il male nelle tendenze dei tempi davanti a noi vedo l'anarchia se permetteranno agli uomini in forma organizzata di dissacrare le leggi degli uomini dei Stati Uniti e la loro Costituzione se permetteremo loro nello spirito dell'anarchia di impossessarsi di ciò che non appartiene loro senza protestare quanto è vero che viviamo raccoglieremo tempesta il governo si basa sulla religione ho qui qualcosa di valore pari a quello di una scrittura scritto dal presidente Calvin College ora ve lo leggerò il nostro governo poggia sulla religione è da quella fonte che traiamo il nostro rispetto per la verità e per la giustizia per l'uguaglianza per la liberità e per i diritti dell'umanità se la gente non crede in questi principi non può credere nel nostro governo nel mondo ci sono soltanto due teorie principali di governo una poggia sulla giustizia l'altra sulla forza una interessa la ragione l'altra la spaga una è semplicemente dalla democrazia l'altra è rappresentata dal despotismo il governo di un paese non è mai superiore alla sua religione non c'è alcun modo in cui la virtù dell'uomo possa essere sostituita dall'autorità della legge naturalmente noi ci sforzeremo di frenare i viziosi e di offrire un discreto grado di sicurezza e di protezione per mezzo della legislazione e del controllo della polizia ma la vera riforma che la società cerca oggigiorno si potrà avere dalle nostre convinzioni religiose oppure non si avrà affatto la pace la giustizia l'umanità la carità sono il risultato della grazia divina ebbene io credo che parole di questo genere siano frutto dell'ispirazione esse sono un movimento al popolo americano da parte di un ex presidente degli Stati Uniti che armonizza completamente con le parole del Signore contenute nel libro di Ether nel libro di Mormon in merito a questa terra non ci si può allontanare dal dio di questa terra senza aspettarci conseguenze terribili il Signore controlla i governi terreni i governi sono responsabili verso Dio i governi sono come gli individui essi dovranno rispondere al Signore del loro operato secondo le leggi divine ogni uomo è responsabile dei suoi peccati e sarà giudicato in base alle sue opere e così pure sulla base delle proprie azioni saranno giudicate le nazioni anche se un dato di fatto che i uomini si sono allontanati dal Signore ed hanno formato i propri governi tuttavia il Signore non ha mai ceduto i suoi diritti non ha mai totalmente rivirato e ceduto il suo dominio trasferendo al governo degli uomini il dominio della sua terra senza che essi ne debbano rispondere egli controlla e guida e tuttavia lascia gli uomini liberi di agire senza Dio l'uomo è incapace di governare bene senza l'aiuto dello Spirito di Dio e la sua diretta comunicazione direzione che egli è pronto a dare se essi si pentono gli uomini si sono sempre dimostrati incompetenti in materia di governo questo vale anche oggi se avessimo governi giusti avremmo la pace un solo uomo giusto non può fare giusto un popolo perché possa esserci giustizia deve esserci obbedienza alle leggi giuste da parte dei popoli nel nostro stesso paese oggi tra la gente prevalgono la malvagità l'assassino e ogni specie di abominazione e come accade qui anche accade nei altri paesi della terra e il governo che il signore stabilì in principio viene ignorato infatti per la maggior parte della storia del mondo esso non è esistito fra i uomini e i figli dei uomini di quanto in quando il signore si è trovato nella necessità di ritirare dalla terra il suo ciaserdozio si è trovato nella necessità di portare via i suoi profeti e i suoi servi giusti abbandonando il popolo a se stesso a causa della sua malvagità ed esso abbrancolato nelle tenebre girovagando senza la guida di cui aveva tanto bisogno per camminare sui sentieri della giustizia il governo il governo perfetto è basato sull'amore di Dio così è stato nella storia di questo mondo salvo poche eccezioni ci sono state delle volte in cui determinati popoli della terra hanno voluto ascoltare la voce di Dio in cui fra loro ci sono stati profeti che li hanno istruiti in cui essi sono stati guidati dalla rivelazione continua in cui il loro cuore era attaccato alla giustizia un esempio di questo genere è citato brevemente nella Bibbia ma poche sono le frasi che trattano di questo fu durante il tempo di Enoch che il popolo divenne così retto che il Signore lo prese a sé in questo continente ci fu un altro popolo di pace e di giustizia quando le persone ascoltarono i volentieri la voce del Signore non sappiamo esattamente quanto siano durante questa influenza e questa rettitudine presso altri popoli dall'inizio perché la nostra storia è molto breve ma sul continente americano per 200 anni dopo la procedizione del nostro redentore il popolo visse rettitudine desidero leggervi ciò che il profeta crisse la storia di quel popolo dice in merito a quelle condizioni ed abbenne che non vi erano affatto contese nella loro terra per via dell'amor di Dio di cui erano riempiti i cuori del popolo e non esistevano gelosie né lotte né tumulti né adulteri né alcuna scivia e certamente non poteva esservi popolo più felice fra tutti i popoli che erano stati creati dalla mano di Dio non vi erano ladri né assassini né l'amanite né alcuna sorta di iti ma erano tutti concordi figlioli di Cristo ed eredi del regno di Dio che periodo stupendo deve essere stato quello in cui tutti erano felici in pace in cui tutti amavano il prossimo come se stessi e soprattutto amavano Dio infatti leggiamo qui che a determinare quello stato di felicità fu il fatto che nel cuore delle persone dimorava l'amore di Dio non ci sarà mai un tempo di pace di felicità e di giustizia temperata dalla misericordia in cui tutti i uomini riceveranno quello che è il loro diritto e il loro privilegio ricevere finché non si avrà nel cuore l'amore di Dio il Signore distrugge le nazioni che si danno alla malvagità per ciò che attiene a questa terra il Signore ha detto che nessun popolo può dimorarvi senza che sia distrutto se si permette di allontanarsi dal Dio vivente e questa distruzione sopraggiungerà quando il cuore dei uomini sarà pieno di malvagità e il loro calice di inguità traboccherà essi devono servirlo dovranno osservare i suoi comandamenti o almeno dovranno avere qualche parvenza di giustizia altrimenti quando verrà la pienezza della malvagità certamente egli eliminerà questo è stato fatto nel passato due popoli per esempio come scritto nel libro di mormo furono spazzati da questa terra e secondo le rivelazioni date per il tramite del profeta già si smette ciò accadde prima di quel tempo a un'altra nazione o forse a più di una perché il signore spazzò il popolo dalla faccia della terra mediante il diluvio poi questa terra fu nuovamente popolata il signore il signore vi portò gli uomini e a loro le dette dicendo che essa era una terra scelta tra tutte le altre i uomini potevano ereditarla a patto che lo servissero ma quando si allontanarono da lui e divennero malvagio essi furono annientati e avvenne un altro popolo cui furono date istruzioni analoghe e quando il suo calice di iniquità fu colmo anch'esso fu distrutto questo stesso ammolimento è stato fatto anche al popolo che oggi dimora nel nostro paese e ciò che se non osserva i comandamenti del signore anch'esso sarà colpito dalla distruzione e quello che il signore dice di questo paese vale anche in grande misura per gli altri paesi la storia parla dell'ascesa e della caduta delle nazioni abbiamo come esempio la storia di Babilonia della Siria dell'Egitto di Roma e di altre nazioni perché furono distrutte perché si ripetarono di dare ascolto allo spirito di verità alla voce della giustizia e di camminare con quello spirito al cospetto del signore nei giorni della loro iniquità esse furono colpite dal dolore perché la collera del signore divampò contro di loro ed esse precipitarono dalle loro elevate ed esaltate posizioni l'America scelta fra tutte le terre la malvagità sarà la causa dei castigli all'America questi passi scritturali del libro di Mormon sono veri la nazione americana non è esente e se il popolo continuerà per la strada del male delle vita come sta facendo alla fine sarà punito se continuerà a ignorare le parole di ammovimento del signore a negare il suo redentore a voltare le spalle al suo vangelo per dare ascolto alle favole alle false teorie a ribellarsi contro tutto quello che egli per il tramite dei suoi servi ha dichiarato in questo giorno per la salvezza dell'uomo e se diventerà ancora più unico i castigli del signore colpiranno questa terra e questa nazione non sarà salvata perché non ci saranno risparmiate le guerre le carestie le pestilenze e alla fine la distruzione perciò io esorto il popolo non soltanto i santi degli ultimi giorni ma il popolo di tutta questa terra a pentirsi dei suoi peccati e a riconoscere il signore Gesù Cristo che è il nostro redentore e il dio di questa terra abbandonate le vie del male pentitevi dei vostri peccati e abbracciate la pienezza del vangelo per mezzo delle acque del battesimo e dell'obbedienza affinché i castigli che saranno riversati sugli enti possano esservi risparmiati l'America una terra di promessa e di rifugio l'America non è soltanto una terra di promessa riservata a un popolo retto ma è anche una terra di rifugio per i tiranneggiati e gli oppressati e gli oppressi i pulitani vennero qui in cerca della libertà religiosa quando l'oppressione infuriava nel vecchio mondo lo stesso dicasi delle primissime colonie i giarditi vennero qui cercando una terra di libertà i nefiti vennero da Gerusalemme perché il signore li aveva chiamati da una terra di peccato e di schiavitù il cui popolo stava per essere fatto prigioniero e punito anche un'altra intorno al numero dei suoi componenti perché essi non avevano alcuna storia scritta tuttavia sappiamo che portarono con sé il figlio più giovane di Sedechia re di Giuda la Bibbia che visse con loro per nove mesi prima della sua morte successivamente i molechiti furono scoperti dai nefiti e i due popoli divennero uno solo infatti da allora in poi i molechiti furono conosciuti come nefiti con i quali condivisero le benizioni della loro fede in breve questa è la storia degli antichi abitanti dell'America in cui tratta il libro di Mormon essi erano civilmente proprieti adoravano il vero Dio vivente una terra dedicata al suo culto e concessa a un popolo giusto finché esso non diventò un trasgressore imbetterato che i gentili di questa terra prestino ascolto all'ammovimento e servono Gesù Cristo affinché la distruzione non li colpisca perché è stato profetizzato che se gli abitanti attuali abbandonano il culto del vero Dio essi attireranno su di sé la stessa distruzione come ha fatto finora agli abitanti di questa terra i giarediti il popolo dell'alleanza del Signore su questa terra i giarediti si moltiplicarono e prosperarono peccarono e furono puniti si pentirono e furono perdonati e ciò per un lungo periodo di anni tra loro fu organizzata la chiesa e ci furono uomini investiti del sacerdozio con questo popolo il Signore stabilì le sue alleanze così come egli fece con Abramo e Israele i giarediti costruirono città e divennero abili nell'arte nella lavorazione dell'oro dell'argento della tessitura delle stoffe e nella coltivazione della terra si spassero dappertutto e furono un popolo intelligente che ebbe una lingua scritta e una coscienza completa della venuta di Gesù Cristo alla fine a causa del peccato la loro civiltà ebbe termine essi uccisero i loro profeti la peste e le continue guerre li decimarono e alla fine furono completamente distrutti il loro ultimo re Coriantum visse fino a vedere un altro popolo farvi avanti e possedere la terra che egli e il suo popolo avevano perduto a causa della loro disobbedienza si adempiva così la predizione del loro primo profeta Maori Maori Ancumer e qualunque nazione la possederà questa terra dovrà servire Dio o verrà spazzata via quando verrà la pienezza della sua via il Signore colonizzò l'America moderna Se si legge la storia degli Stati Uniti non si può fare a meno di renderci conto della veridicità delle parole dell'Apostolo Paolo secondo le quali le autorità che esistono sono ordinate da Dio Io credo fermamente che fu per l'ispirazione del Signore che i primi coloni d'America furono spinti a interpretare il loro viaggio dal vecchio mondo e a stabilirsi in questa terra di libertà Generalmente essi erano di umile nascita onesti operosi e coraggiosi uomini che il Signore sceglierebbe per affrontare i molti problemi che si incontrano di continuo nel colonizzare un nuovo paese o nello strutturare una nuova nazione l'America e la sua costituzione Il Signore ha stabilito la costituzione degli Stati Uniti nessuna nazione è stata più benedetta degli Stati Uniti noi viviamo in una terra che per divino pronunciamento è stata definita scelta fra tutte le altre terre il Signore ha vigilato su di essa con amore geloso e ha comandato al suo popolo di servirlo affinché la sua polvere non accenda contro di esso privandolo delle sue benedizioni il governo dei Stati Uniti d'America sorse per ordine divino l'ispirazione del Signore scese sui patrioti che lo istituirono sostenendo durante i giorni bui della loro lotta per indipendenza e nel periodo critico successivo quando essi compostero la nostra gloriosa costituzione che garantisce a tutti la siomatica verità proclamata della dichiarazione di indipendenza secondo cui tutti i uomini sono creati uguali che i loro creatori li ha dotati di certi dritti inalienabili che fra essi ci sono la via la vita la libertà e la ricerca della felicità questo vuol dire che davanti alla legge ogni anima ha il diritto di avere una giustizia uguale e assoluta il diritto di adorare secondo i dettami della propria coscienza e il diritto di operare secondo le proprie inclinazioni individuali senza coercizione d'obbligo affinché ciò fosse il Signore ha detto a questo scopo io ho stabilito costituzione di questo paese per mano di uomini saggi che ho suscitati a questo scopo e ho redento il paese con spargimento di sangue i Stati Uniti sono stati fondati come una nazione cristiana i fondatori dei Stati Uniti erano uomini dalla fede umile molti di loro ebbero la visione del glorioso destino del nostro governo a patto che continuassero a camminare fedelmente sul sentiero della giustizia e del bene con spiriti contriti e cuori umili accettando le verità divine che si trovano nelle sacre scritture l'appello di questi uomini è riecheggiato attraverso gli anni per mezzo degli ammovimenti profetici alle generazioni successive che sono state supplicate di essere fedeli a tutte queste norme che sono la base del governo degli Stati Uniti questo paese è stato fondato come una nazione cristiana con il riconoscimento di Gesù Cristo quale redentore del mondo un antico profeta disse che questa terra sarebbe stata una terra di libertà e sarebbe stata fortificata contro tutte le nazioni purché i suoi abitanti avessero servito Gesù Cristo ma se si fossero allontanati dal figlio di Dio essa avrebbe cessato di essere una terra di libertà e l'ira del Signore si sarebbe accesa contro di essi è triste pensare che a tale riflessione non può essere confutata con successo alcuni cittadini degli Stati Uniti hanno dimenticato l'ammonimento giunto fino a loro come Israele dimenticò i comandamenti per i quali se li avesse osservati sarebbe stata benedetta per sempre nella terra di Canaan abbandonando queste leggi il popolo degli Stati Uniti corre il pericolo di essere punito come lo fu il mon il popolo di Israele per aver abbandonato il Signore per non essersi pentito e per non aver ascoltato gli ammonimenti dei suoi profeti la costituzione sospesa a un filo è stato detto che il profeta dichiarò che sarebbe venuto il momento in cui questa costituzione sarebbe stata sospesa a un filo ed è vero c'è stata un po' di confusione tuttavia circa quello che egli disse dopo questa frase credo che l'anziano Orson Hyde ci abbia dato l'interpretazione corretta quando dice che il profeta intendeva dire che la costituzione sarebbe stata in pericolo disse Orson Hyde io credo che egli abbia detto qualcosa di questo genere e cioè che sarebbe venuto il giorno in cui la costituzione e il paese avrebbero corso il rischio di un roversiamento le sue parole furono se la costituzione sarà salvata ciò lo si dovrà all'opera degli anziani della chiesa io credo che queste siano all'incirca le parole che egli proferì per lo meno per quanto ricordo io ora io vi dico che è tempo che il popolo degli Stati Uniti si svegli e capisca che se esso non salva la costituzione dai pericoli che la minaccino ci sarà un cambio di governo che è tempo